partiamo ecco e con questa veramente proprio lo start che ci voleva direi direi audio video mi confermate è tutto a posto è oggi di cosa parliamo è arrivata la tanto attesa circolare che chiarisce la precedente circolare la 23 del 23 giugno 2022 allora nell'attesa che mi diate via chat via via messaggio che audio video sia tutto a posto direi che possiamo cominciare con appunto commentare a caldo ho preparato una slide che potrete anche scaricare dopo la diretta vi mette il link descrizione e appunto appunto intanto avvisate tutti con whatsapp messaggini è partita questa diretta perché ci sono novità positiva una volta ogni tanto veramente era quello che ci voleva era quello di cui avevamo bisogno per questione di dirigenza qualificata responsabilità solidale conferme sulla questione sal e sul sal 30 per cento delle unifamiliari sono venuti fuori dei nuovi dubbi erano fuori un nuovo dubbio io non lo vedo un dubbio una volta ogni tanto mi sento come dire a favore di sbilanciarmi positivamente bene grazie maurizio delia audio video tutto a posto e allora ce le possiamo togliere cominciamo i miei riferimenti e riferimenti li conoscete eccoli qui telegram canale youtube il blog qua sotto e riferimenti social carlo pagliai ingegnero urbanista e dai andiamo subito a vedere questa circolare perché dovrebbe essere quella che sbloccherà veramente la cessione dei crediti e riattiverà con una maggior fiducia il mercato perché perché sono stati chiariti questi benedetti paletti relativi alla circolazione e alla recessione dei crediti no c'era stato tutto il problema delle ricordate c'erano dubbi responsabilità ma cosa succede se io compro crediti dopo ecco tutte queste cosettine ora sono state chiarite bene andiamo subito al sodo allora altra cosa ci sono aspetti tributari che io ovviamente non sendo ingegnere non intendo affrontare vi consiglio di tenere d'occhio gli aggiornamenti di professionisti specializzati ad esempio già oggi sul blog ma anche nei prossimi giorni della dottoressa commercialista fabiana nesi troverete approfondimenti ancora più specifici di materia tributaria questo ve lo ve lo premetto perché sarà sarà importante dove la trovate studio nesi punto it c'è la sezione blog e andate e leggete allora uno dei punti roventi erano questi erano quello della disciplina della responsabilità in solido tra i vari cessionari allora la circolare fa una buona ricostruzione su ciò che era disciplinato prima del decreto aiuti bis quindi del reso legge 150 115 2022 convertito in legge 142 ok quindi lo chiamiamo d'orino avanti decreto aiuti bis e non ci si sbaglia tutta la ricostruzione della risparmio ecco allora giustamente la circolare 33 uscita ieri 6 ottobre 2022 ha detto benissimo ora facciamo un tagliando alla circolare 23 e l'aggiorniamo col decreto aiuti bis eccolo qua in sostanza c'era la questione appunto della della responsabilità solidale ecco allora è stata chiarita a seguito del decreto aiuti bis quindi il cessionario il fornitore che utilizza in compensazione credito d'imposta affinché si possa considerare responsabile insolito ogni beneficiario quindi colui che beneficia della detrazione committente il contribuente in ipotesi di carenza dei relativi e presupposti lo stesso nel rispetto delle altre condizioni recate dalla predetta norma la pretta modifica deve aver operato condolo o colpa grave quindi invece risulta irrilevante la colpa lieve allora non si applica con la colpa lieve si applica la responsabilità solidale quando c'è dole colpa grave in questa circolare è stato definito un po meglio cos'è la colpa grave e dolo o vediamo allora intanto qui ci dice si considera dolosa ai sensi eccetera ciò rileva che in questa nozione la volontà dell'autore della violazione consapevole consapevolmente diretta all'evasione così che non è mai possibile considerare doloso quel comportamento che pur violando la legge tributaria non persegua intenzionalmente questa cosa verrà accertata quindi nelle opportune sedi nei contenziosi tributari e in ambito penale di conseguenza quindi ci sarà un accertamento che dove verrà verificato e dimostrato proprio l'intenzione ok colpa grave colpa grave la colpa grave sussiste quando c'è imperizia o negligenza di comportamento e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato della portata della norma violata di conseguenza risulta evidente macroscopica in osservanza di obblighi elementari allora allora in ogni caso in ogni caso c'è da distinguere i livelli di colpa tra colpa grave e colpa lieve dov'è il confine avevamo detto anche nelle altre eccolo qua il confine avuta riguardo della condotta della gente alla possibilità di erigere dallo stesso un determinato comportamento ad esempio la diligenza richiesta ai fini dell'individuazione della colpa sarà valutata anche tenendo conto della natura e l'attività professionale o l'impresa svolta dal cessionario richiedendo sul livello di diligenza particolarmente qualificato ad esempio nei casi in cui soggetti sia tenuto al rispetto di normative regolamentari a indicazione della realtà dell'autorità preposte ok questa ripreambolo arriviamo un po alla ciccia perché se no si legge la norma e basta allora in particolare dopo l'entrata in vigore del decreto aiuti bis la responsabilità solidale nel rispetto delle condizioni abbiamo detto prima è limitata alle sole ipotesi di dolo e colpa grave e fin qui lo sapevamo già ecco alcune ipotesi di esempi e comunque non esaustivi quindi è un elenco ma non è non sono tutti questi gli esempi in cui sussistono dolo e colpa grave per i cessionari e i fornitori ok allora il dolo ricorre quando eccezionaria consapevole dell'inesistenza del credito ad esempio nel caso in cui quest'ultimo eccessionario abbia preventivamente concordato o il beneficiario le modalità di generazione fruizione dello stesso ovvero valore al carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente a un primo esame e ciò nonostante eccessionaria proceda comunque l'acquisizione alla compensazione traendo beneficio fiscale in debito quindi di nuovo lo sanno ne sono consapevoli di questa cosa ma vanno avanti e il fisco se ne accorge quindi dolo colpa grave qui è il discorso un pochino più ampio allora ricorre quando eccessionaria abbia omesso un termine macroscopici la diligenza richiesta ok ad esempio l'acquisto dei crediti è stato eseguito in assenza dei documentazione richiesto a supporto degli stessi oppure c'è la documentazione in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente ad esempio nel caso in cui l'asseverazione si riferisca un immobile diverso da quello oggetto di agevolazione ora capite bene che vuol dire tenere un atteggiamento di veramente di imperizia cioè non guardando neanche le cose più banali cose più evidenti quindi il confine si è spostato allora e qui meno male c'è questa clausola di chiusura di chiarezza eccola qui al fine di limitare la responsabilità in solito l'eccessionario alle sole ipotesi di dolo e colpa grave con riferimento alla cessione credito sorti prima dell'introduzione ecco qui c'è il riferimento all'epoca antecedente al decreto antifrodi ok quindi credito in imposta sorti prima del dell'obbligo di acquisire visti di conformità e asseverazioni varie il cedente a condizione che sia a un soggetto diverso da banche intermediari scritte all'albo ok e che coincida con il fornitore acquisisce ora per allora la documentazione di cui visto di conformità asseverazione tradotta all'osso anche qui in sostanza e questo già la norma ce lo aveva già detto questa è una riconferma ci dice praticamente voi dovete se acquisite ora per allora i visti di conformità e le asseverazioni previste per i bonus minori perché non l'avete fatte prima del decreto antifrode 2021 allora se le acquisite bene applico anche per voi questo nuovo regime in cui si va a separare ea distinguere la responsabilità solidale altrimenti mi dispiace con voi non applicherò questo regime più favorevole quindi la vera domanda è dove troveranno i professionisti i tecnici che gli vanno a fare per esempio sui bonus facciate dove si sa che molto probabilmente ci sono stati dei trucchettini dei dei racchezzi questi giochettini strani ecco e soprattutto andare a ricostruire senza per la documentazione fotografica documentazione di cantiere insomma questo secondo me sarà un vero problema e per chi diciamo si è mosso male da questo punto di vista in altri termini la limitazione della responsabilità solidale è in sostanza in sostanza no queste me le rosegnate comunque allora in altri termini la limitazione della responsabilità soli solidale solidale mi ci sono un pappinato a condizione che nel rispetto alle previsioni di legge siano state acquisiti visti conformità alle asseverazioni opera quando all'origine per i crediti di imposta sorti con superbonus per i quali è sempre stata obbligatoria l'acquisizione e quindi appunto il regime più favorevole superbonus ce l'ha sempre avute il visto e l'asseverazione poi scatta per quelli sorti prima allora ripeto fatti produrre ora per allora la relativa documentazione visto e asseverazione e allora e allora in questo caso applico anche per te questo nuovo regime è ma per quanto riguarda le attività in edilizia libera quelle che anche dopo il decreto antifrode e quindi fuori il bonus facciate però con importi inferiori a 10 mila euro come ci comportiamo ecco ce lo dice il riferimento a queste opere e per gli interventi appunto di edilizia libera ok o quelle di importo non superiore a 10 mila euro tranne bonus facciate sempre appunto questi non non erano col decreto antifrode non sono stati assoggettati al visto e all'asseverazione che si fa con loro che si fa ecco cosa ce lo dice l'obbligo del visto e delle asseverazioni diciamo l'obbligo mi sono perso fatta accezione per interventi bonus facciate l'obbligo del rilascio del visto e delle asseverazioni di congruità della spesa a fronte della presenza della ricamata documentazione attenua la responsabilità solidale in caso di concorso in violazione si ritiene tali effetti possono operare anche in relazione ai crediti per i quali punto ci sono il credito non pone un obbligo al rilascio della predetta documentazione a condizione che fornitore cedente acquisisca ora per allora la documentazione ecco io qui veramente il legislatore sta dicendo nel legislatore scusate la circolare sta dicendo è vero che io non che la norma non ti obbliga però sappi che se tu acquisisci ora per allora visto e asseverazione anche per queste tipologie edilizia libera e comunque bonus minori sotto 10 mila euro niente mai bonus facciate lui non ci rientrerà mai se te le fai fornire ora per allora userò questa questo nuovo regime favorevole di colpa grave dolo se te le fai dare altrimenti sappi ecco qui il fisco sembra tenersi una clausola di riserva come dire ma ma io comunque posso andare a verificare anche questi tipi di interventi qui al che è un suo legittimo diritto poi poi allora fermiamoci un secondo sotto con i commenti in diretta magari li leggiamo a fine a fine diretta ripeto primo commento a caldo mettete un bellissimo like voi siete in diretta o se lo vedete in differita iscrivetevi alla campanellina del mio canale youtube sono carlo paglia ingegnere urbanista i miei riferimenti rapidissimi al volo e riprendiamo riprendiamo dal punto dove c'eravamo lasciati bene vedo che siete ancora tantissimi online i famosi indici che vi ricordate il paragrafo 53 della circolare 23 che ci fece saltare tutti dalla sedia è no ma erano stati indicati degli indici come criteri i romanini come l'avevano chiamati ecco in cui il fisco praticamente si riservava ulteriori verifiche chiarimenti ecco sono stati chiariti e precisate un po meglio effettivamente ora hanno un senso e sono condivisibile allora il fisco può fare riferimento a questi indicatori a questi indici che possono assumere rilevanza singolarmente laddove c'è questa anomalia evidenziata dal singolo dal singolo indice e rivesta una particolare gravità oppure nel loro insieme nel complesso unitamente insieme ad altri elementi al fine di orientare le istruttore in ordine alla configurabilità del concorso nella violazione da parte del fornizio dei fornitori eccessionari per pianificare controlli che verranno ecco allora tutto questo pippone per dire il fisco si è giustamente dato alcune indicazioni per dire quando è che mi suona la campanellina ecco quando è che mi ho maggior probabilità ecco quindi ha elencato in maniera semplificativa una serie di riferimenti di circostanze che possono come dire essere sintomatici o vediamole allora vediamo le dovrebbero essere più avanti dovrebbero essere più avanti appunto appunto c'era la questione del incoerenza reddituale e patrimonio patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari dell'agevolazione in esame e infine c'era l'incoerenza tra il valore del credito ceduto il profilo finanziario patrimoniale soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiare della detrazione riassunto allora questo vuol dire questa presunzione questa probabilità di anomalia quindi magari non è detto però si si considera come un indizio scatta in capo al committente qualora l'agevolazione fiscale non copre all'intero importo dei lavori eseguiti con la conseguenza una parte del corrispettivo dovuta al fornitore potendo essere regolato solo parzialmente mediante cessione la destrazione rimarrà anche finzione finanziariamente a cari e committente quindi quindi sarà importante il fisco andrà si è pianificato che andrà ad acquisire a verificare i famosi accollino i pagamenti che vanno oltre i massimali pagamenti ovviamente con bonifico compiute da parte e committente relativa all'importo rimasto a suo carico nel caso in cui l'agevolazione non copre all'intero importo dei lavori e sempre i lavori siano stati effettivamente eseguiti tradotto immaginiamo un sismo a bonus su una billetta unifamiliare il fisco vuole andare a vedere se te ne coi 96 mila euro cosa c'hai fatto se hai coperto tutte le spese oppure se sei andato anche oltre quell'importo quel massimale e quindi ti sei pagato in accollo la tua differenza non altrimenti detraibile cioè cioè alla rovescia se il fisco non vede ad esempio questo pagamento gli vengono sospetti ecco ecco come avete capito che funziona gli indici come funzioneranno al che ha un senso nel caso dei condomini dei condomini la verifica delle capacità reddituale finanziarie può ritenersi soddisfatta con la prova dell'avvenuta esecuzione del bonifico da parte del condominio quindi condominio di nuovo condominio fa lui pagamento bonifico per la parte in accollo e allora è minore il sospetto è minore l'anomalia ripeto si sta facendo un po il processo all'intenzione ma appunto il fisco bisogna essi dia dei paletti dei criteri e degli indirizzi in cui a promuoversi lato cessionario quindi lato colui che compra il credito d'imposta dovrà acquisire documentazione utile per dimostrare il suo diretto dante causa anche quindi se si tratta il fornitore e quindi siamo ai ai recessionari possieda la verosimile capacità reddituale finanziaria per sostenere quantomeno il prezzo di acquisto dei redditi di imposta oltre all'avvenuto pagamento quindi diciamo un criterio condivisibile questo invece mi interessa tanto sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduta il valore l'immobile quindi si osserva preliminarmente questa è condizionata alla tipologia obbligazione dell'immobile ciò premesso tale indice può assumere rilievo riferimento alle comunicazioni e lavori eseguiti per importi particolarmente significativi a fronte del valore degli immobili commerciali presso che nulla in particolar modo se per la tipologia dei lavori eseguiti non è normativamente previsto un tetto di spesa avete capito di chi sta parlando ce n'è uno in particolare il bonus facciate tradotto se il tuo immobile è vivo non so ipotizziamo una villetta schiera o anche di nuovo non i familiare mi fai e vale ho messo male uno stato di conservativo pessimo quello che volete voi veramente ipotizziamo allora che valga 100 mila euro e che tu mi faccia 90 mila euro di bonus facciate effettivamente fa scintille no ora se siamo se abbiamo un minimo di onestante elettuale anche senza che il fisco ci avesse scritto una roba simile quindi come dire se il valore commerciale dell'immobile è basso e c'è veramente una sproporzione dell'importo ceduto al bonus facciate non state non state allegri perché il fisco ha detto voi siete quelli che siete primi della lista che probabilmente verrò a guardare probabilmente perché perché c'è questo indice sintomatico questo è il riferimento infatti in particolar modo lo vedete qui in particolar modo per la tipologia lavori eseguiti non senza tetto di spesa il discorso vale anche per quelli che hanno i massimali e quindi vale anche per loro questo perché perché il fisco qui fa di nuovo il processo all'intenzione probabilmente le frodi o diciamo frodi ma comunque gli eccessi sono avvenuti con queste situazioni e allora fa scattare il famoso alert ok poi andando avanti non so come pensate voi lasciate però la vedo abbastanza tranquilla invece pensavo ribollisse dalle domande ditemi voi cosa ne pensate voi siete in diretta se fate come dire se come accogliete questa circolare se vi se pensate che scioglierà il mercato dei crediti e riattiverà un po gli sconti in fattura io a questo punto riterrei riterrei di sì riterrei di sì e andrei anche avanti allora allora questa storia io ve la segnalo vi consiglio di leggerla ma non non la non mi sento di commentarla ora non ho avuto neanche il tempo quello che però vi posso dire piccolo cenno anche perché in materia molto tributaria però questo questo spazio vi consiglio invece di annotarvelo si precisa infine che il correntista che acquista dalla banca quindi la famosa recessione ai fini della valutazione della sua diligenza solidale nell'acquisizione del credito non è tenuta da rifare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito a condizione però veramente a condizione che la banca cedente consegna al cessionario correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa all'atto da questo credito la necessaria diligenza quindi non si trasferisce la diligenza la responsabilità solidale nei confronti del correntista correntista ovviamente che vuole comprare dalla banca la cessione di credito a sua volta acquistata da un altro quindi da un anche committente beneficiario anche da una da un'impresa o sconto in fattura ecco sì ma a condizione e tu banca devi consegnare questi documenti dimostrando di aver acquisito il credito con la dovuta diligenza quindi comunque sia l'onere rimane all'istituto di credito ecco questo finalmente anche qui paletti sappiamo qual è il confine in sostanza in sostanza l'errore l'erronea indicazione dei dati della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per lo sconto un fattore accesso nel credito in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi ok quindi questo è un qualcosa che direi di di annotarvelo ora ripeto questo è un punto che non mi interessa moltissimo ora c'è invece altra cosa vi segnalo errore nella compilazione della comunicazione errore formali errori sostanziali questa è roba prettamente procedurale tributaria vi segnalo mi immagino che per esempio la dottoressa fabiana nesi e farà ciao fabiana farà i dovuti approfondimenti vi consiglio di seguirli per la materia tributaria seguite lei il suo blog interessantissimo ok entriamo ritorniamo nell'ambito ora più tecnico qua c'è un paragrafo del sal stato avanzamento lavori in cui si danno anche delle indicazioni su come numerarli eccetera perché saldo non possono essere più di tre quelli ai fini dell'asseverazione visto di conformità articolo 121 di quelli si parla poi correzioni anche o ben venga il fisco ci ha indicato termine modalità per fare le correzioni ci ha dato anche la possibilità della remissione in bonus leggetevela ma a maggior ragione fate affidamento ai commercialisti che faranno compileranno questi documenti o coloro che fanno visti di conformità in generale quei soggetti non entro in quel merito non entro neanche in questo merito dove voglio andare avanti o il piatto forte ora qui ci prendiamo una pausa se avete dieci secondi andate va prende un caffè una camomilla soprattutto perché qui bisogna fare un ragionamento perché è apparso un punto critico sulla questione pagamento sal 30 per cento e 30 settembre unifamiliari allora prendete la camomilla prendete il caffè io vi rimetto i miei riferimenti che già conoscete vi chiedo di un altro l'ultimo like o di iscrivervi al canale youtube così andiamo avanti nella nell'esame ok bene allora ora entriamo proprio nella questione unifamiliari e unità autonome quindi c'è stata la proroga al 30 settembre dal decreto aiuti 1 affinché tu abbia raggiunto il sal 30 per cento relativo al all'importo complessivo dei lavori e ora l'andiamo a vedere affinché tu possa portare in detrazione tutte le spese sostenute superbonus entri 31 dicembre 2022 bene allora intanto i contribuenti il fisco ecco il fisco sono buone notizie tranquilli il fisco accetta ha indicato ha indicato tutte quelle condivisioni positive favorevoli e io e altri colleghi come enrico rovere e danilo torresi alla fine abbiamo condiviso ecco ci fa piacere l'abbiamo azzeccate allora ben venga allora la prima i contribuenti interessati inoltre possono scegliere se calcolare il famoso sal 30 per cento considerando o solo interventi superbonus oppure ci mettete anche quelli non superbonus è chiaro è chiaro qualora la data 30 settembre non siano state effettuati non sia stato raggiunto il sal 30 per cento intervento complessivo la destrazione comunque spetta con riferimento alle spese sostenute entro il 30 giugno come stabilito ok ora io qui se mi concedete però un minimo di dubbio ce l'ho chiaramente bisogna e l'intervento del superbonus continua a essere superbonus mi domando punto di domanda ma e se questa persona cambia sterza non fa l'intervento come da 110 quindi non raggiunge non supera non salta le due classi dell'eco bonus 110 e secondo me si pone il problema quindi qui magari andrebbe specificato un po la questione perlomeno io me la porrei poi altro punto interessante essendo facoltà e non obbligo per le persone fisiche di includere nel computo anche i lavori diversi dal superbonus se tu hai raggiunto il 30 per cento dei soli interventi superbonus è superfluo è inutile mettere nel conteggio anche le opere diverse dal superbonus quindi non ti stare a complicare la vita ci sta dicendo il fisco condivisibile ora ora c'è il veramente il primo nodo il primo dono l'unico nodo forse la nota dolente cioè qui c'è un esempio specifico che il fisco immagino faccia fin di bene però quello che ci mette in allerta è questa frase già da ieri su tutti i social e da instagram da facebook ma avete scritto dappertutto ma ma qui c'è scritto pagamenti ma allora voleva dire che per fare il sal per considerare rispettato il sal 30 per cento al 30 settembre era obbligo anche aver fatto il pagamento di questi importi no la norma non dice così allora intanto vediamo cosa scritto il fisco nella circolare è indicata un esempio leggiamolo pertanto ad esempio nel caso di un intervento complessivo di costo totale 100 mila euro 60 sono bonus 50 per cento ristrutturazione il resto 40 mila sono superbonus è possibile fruire di tale ultima detrazione superbonus anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre a condizione che te 30 settembre tu li abbia effettuati e pagati e pagamenti 12 mila euro cioè siano state effettuati i pagamenti pari a 12 mila euro ora e qui vi inalberate tutti intanto fatemi sapere cosa ne pensate voi o ciao danilo benvenuto sono contento della tua presenza danilo esatto anch'io danilo sono poi leggiamo commenti io invece ora una volta tanto do una lettura più favorevole ottimista di solito lo sapete io sono quello che da la lettura prudente rigida allora io credo che questa cosa però non vada letta in maniera isolata ma vada letto intanto con la norma perché una volta tanto la norma a un dato letterale e logico che sono chiari non può arrivare il fisco a snaturare ma infatti secondo me c'è un allarme ingiustificato perché perché bisogna continuare a leggere cosa dice la frase cosa dice il paragrafo eccolo qui resta fermo infatti ai fini del raggiungimento del 30 per cento non è sufficiente il pagamento dell'importo corrispondente al 30 per cento dei lavori se lo stesso non corrisponde all'effettivo allo stato effettivo gli interventi essendo necessaria stante il tenore del letterale della disposizione riferita a lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre la realizzazione di almeno il 30 per cento l'intervento complessivo risposta scritta eccetera e va avanti ancora ora io credo che la chiave di lettura sia qui infatti ai fini del raggiungimento della percentuale non è sufficiente il pagamento dell'importo corrispondente se lo stesso non corrisponde all'effettivo stato dei lavori allora qui il fisco ci ha detto una cosa banale e chiara cioè cioè non se fate il pagamento della quota corrispondente al 30 per cento non va bene li dovete aver fatte cioè il fisco sta dando la lettura opposta nel senso che come tanti dicano ai poi pagamento e lavori magari sono arrivate al 20 per 100 pago gli acconti no se paghi gli acconti ritengo dica così se paghi gli acconti li deve aver non esiste pagare gli acconti cioè paghi per quello che effettivamente hai fatto quindi non fare il furbo in questo modo e allora io credo vada letta tutta nel suo insieme qui il fisco forse ha esagerato a fin di bene cioè ha fatto un esempio dove dove fa il caso in cui c'è stato anche il pagamento ma non va intesa come condizione essenziale per accedere o per dimostrare il sal 30 per cento del 30 settembre non so danilo se sei ancora in diretta cosa ne pensi è scritto male dice maurizio sono d'accordissimo hanno voluto fare un esempio isolato particolare e che ci sta allarmando tutti ci sta buttando un po fuori strada ma io non la vedo una volta ogni tanto poi mi sbaglio per carità non ho pretesa di verità ma credo che sia stato un buon intento e sia stato anche tra avvisato e secondo me la riprova è questo capo verso che io qui vi ho sottolineato ma io credo credo che se il dubbio nasce qui la risposta la troviamo qua sotto quando ci dice guarda che per rispettare il sal non non pensare di cavartela con il solo pagamento dell'importo rispondente al 30 per cento ecco qui c'è l'esempio in cui c'è la coincidenza 30 per cento super bonus effettuato e pagamento quindi bravo questo committente e enti 30 settembre ha voluto pagare e fare davvero i lavori ecco questo è stato un committente un contribuente zelante è questo l'esempio io spero di vederla così non so antonio ecco grande antonio veramente un bellissimo like ecco danilo ora leggo poi anche antonio danilo potevano evitare di inserire l'esempio pagamento come se fossero necessari entrambi mettendo in confusione sono d'accordo anch'io magari andava specificato nella riga sotto oppure con una parentesi guardate il pagamento non è un obbligo non è una condizione effettivamente si è aperto una possibile nuova zona grigia per come la vedo io una volta tanto la vedo bianca poi vediamo vediamo antonio quanto sottolineato contratto rosso quindi questo chiarisce l'allineamento del pensiero di agenzia delle entrate con il dato letterale quindi anche io non vedo motivi di allarmarmi ok vincenzo vi sono info su correzione errori su bonifico parlante eseguito no allora questo magari sulle queste cose consiglio di andare a vedere paragrafi precedenti antonio il fisco si è messo nell'ottica del committente medio che forse lega l'avanzamento del lavoro al pagamento degli stessi ma chiarisce correttamente che conta l'esecuzione effettiva le opere allora antonio rincaro la dose perché tu lo sai che a me su queste cose mi tocchi il nervo si vuole evitare la stessa furbata già vista in tanti casi del bonus facciate 31 dicembre 2021 quando c'erano le file in banca a pagare anche bonus minori a pagare la quota residuale della cessione del credito per non perdere la priorità acquisita ecco io vedo questo c'è il fisco ha detto stavolta no stavolta poi io e processa all'intenzione cioè toglietevi dalla testa giustamente che l'aver pagato il l'importo corrispondente al 30 per cento dei lavori super bonus non è condizione sufficiente per considerare superato il sal 30 poi danilo sono d'accordissimo con te ma anche con enrico ci siamo scambiati e anche con la claudia che non l'ho vista ma vedrà sicuramente sto video effettivamente sta roba scritta maluccio o perlomeno si doveva in qualche modo prevedere che ci avrebbe messo in allarme ecco vediamo maurizio bisogna sempre ricordare che una circolare non può modificare la normativa vigente la norma non cita mai pagamenti ma solo l'esecuzione dei lavori sì ma fatti il comma 8 bis una volta tanto che ha una scrittura fornisce un'interpretazione letterale e anche logica perché andare a prevedere una condizione che non c'è una sola parola lì che mi possa mandare a pensare al pagamento per cui io a oggi mi sentirei abbastanza tranquillo e direi va bene non è stato fatto il pagamento ma non è questa la condizione e ripeto come condivido anche con antonio e anche non so danilo cosa ne pensi tu io credo quello che mi tranquillizza è questa parte che che ho sottolineate stante il tenore letterale della disposizione riferita lavori realizzati entro la predetta data cioè qui il fisco a maggior ragione va ci va a rassicurare ecco io la rassicurazione la vedo qui non so cosa ne pensate voi scrivetelo nei commenti e oramai è un po come quando si passa davanti al lato velox e 30 settembre è passato da mai col dubbio ci si fa poco magari a maggior ragione chiediamo agli organi competenti di far fare una rettifica una precisazione una nuova circolare una risoluzione un qualcosa una presa in posizione ufficiale del fisco che ci possa tranquillizzare tutti da entrambe le parti ecco ha fatto il miracolo unifamiliari unità autonome lavori avviati dopo il 30 giugno 2022 quindi vi ricordate la questione ma la proroga per loro non vale la scilla spresentata dal primo luglio e allora ci rientrano non ci rientrano è stato una di quelle cose roventi di quest'estate 2022 che ha creato su buglio allora c'è stato il miracolo davvero quindi la proroga vale anche per le unifamiliari quindi la proroga quale quella di fare lavori entro il 30 settembre al 30 per cento dell'importo complessivo opere superbonus o anche opere diverse dal superbonus per arrivare all'agognato 31 dicembre 2022 sì ma anche per interventi avviati e legittimati con titolo abilitativo dopo il 30 giugno o il fisco dice in assenza di ulteriori indicazioni della norma quindi fisco dice ma la norma a me non mi dice niente a me io la vedo così bene bene finalmente questa è una rassicurazione che piace a tutti quindi un altro grossissimo dubbio ce lo siamo tolti allora allora io se siete d'accordo andrei andrei allora a inserire a inserire la chat lo facciamo in tempo reale un attimo di pazienza voi intanto scatenatevi con i like con i commenti così li leggiamo brevemente anche per non essere troppo lungo ecco eccolo qua eccolo qua riportiamolo su allora andiamo andiamo a vedere danilo sono convinto che sia sufficiente l'esecuzione delle opere anche senza il pagamento chissà che non ripubblicano una 33 corretta giornata sì che praticamente si ripeta ti ricordi danilo quando veramente nel giro di pochissimo tempo arrivò la prima versione della circolare 23 sparì e corressero giustamente la questione dell'unifamiliari e è proprio della fase della correzione salto fuori il dubbio pubblica dubbio che poi fu amplificato da un particolare portale e tutti la poi l'abbiamo ripreso analizzato franco franco sta calmo perché c'è il tasto censura qui pronto è bastava aver fatto i lavori e pagare diversamente dubbi di furbate nascono ecco questo sì ora non so bene a cosa ti riferisci ma insomma la questione del del pagamento non so se ti riferisci al sal 30 per cento però però non ragioniamo solo come se tutti facessero la cessione di credito perché ci possono essere anche interventi in cui io committente io ho capienza non fa cessione di credito sconto in fattura con la destrazione diretta io con l'impresa sono d'accordo di pagare anche dopo il 30 settembre quindi un po anche per dimostrare secondo me di non preoccuparsi con quella con chi pensa che ci sia anche l'obbligo di pagare entro il 30 settembre le opere oggetto di sal 30 per cento ecco anche perché quelle hanno cominciato il 25 settembre sono in grossi guai paolo stesse cose che ha detto su marco ancora non c'è una risposta chiara se facoltà della direzione lavori considerare o meno il materiale a ped opera in cantiere per i saldo e 30 per cento di fine settembre no non c'è ancora questa precisazione qui non è non è indicata allora nella circolare 23 c'è un rinvio che ci dice guardate per gli stati di avanzamento lavori andate a fare riferimento a si consiglia o perlomeno vanno loro a fare riferimento danno un'occhiata agli stati di avanzamento che si fanno negli appalti pubblici in quella normativa nel regolamento attuativo quindi bisogna comportarsi in quel senso alla faccio un esempio è arrivata la pompa di calore in cantiere è impacchettata ovviamente documento di trasporto è stata consegnata bu parliamone ora un discorso lungo vi consiglio di andare a vedere il precedente video dove dove ho dato i consigli e lì ho fatto riferimento anche al materiale pubblicato appunto dalla dottoressa fabiana nesi però se la pompa di calore è stata installata è stata collocata proprio nel nell'edificio ma l'impianto non è stato con lo come dire collaudato non è stato reso funzionante va bene uguale ecco quello sì a maggior ragione se poi è stato installato e collaudato ancora meglio poi pasquale attestazione con cui tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento e da alleggersi come asseverazione nea o comunicazione via pec con video e foto varie allora allora io tra l'altro credo d'aver saltato un passaggio un passaggio che era me lo son perso lo so perso ma magari dopo lo vado a ritrovare nella slide ok allora l'attestazione con cui tecnico deve dichiarare il raggiungimento del 30 per cento la norma non ce lo dice ora magari uno con con un piccione vuole prendere un piccione dai siamo cotti di mattina allora con una fava vuole prendere due piccioni quindi si vuole prendere ad esempio fare l'asseverazione e nea e quindi quella del 30 per cento articolo 121 ok e praticamente io voglio prendere già che ci sono faccio tutte e due quindi faccio l'asseverazione all'enea e dimostro anche di aver fatto il di aver raggiunto le opere al 30 per cento super bonus ecco lì chiaramente se sono un buon asseveratore gli allegro le foto con data certa gli allegro anche la contabilità aggiornata debì gli allegro tutta la documentazione utile che oramai la don che per scontata atta a dimostrare che te hai raggiunto davvero il sal 30 per cento e allora l'ho mandata l'enea io ritengo di aver assolto di aver assolto questa cosa però mi sembra di aver letto proprio anche in questa circolare magari danilo se tu hai modo e hai più tempo di me per approfondirla perché c'è questa questa cosa sono sicuro di averla letta nel frattempo continuate a fare i commenti io provo a cercarla nella circolare così vediamo se 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 la riesco no non la trovo ok va bene allora altri commenti franco la posa in opera garantisce dopo garantisce che dopo non la porto d'altra parte sì infatti c'è anche questo c'è questo rovescio la medaglia cioè il materiale a pied'opera potrebbe essere ancora essere preso e portato via quindi effettivamente lascia un po il tempo che trova un po come nel film chi se lo ricorda anni ruggente con manfredi che le mucche venivano spostate di volta in volta dove era comodo allora marco consiglio nazionale architetti è uscito con una circolare postuma del 5 ottobre dove a detta dell'esperto di turno i soli materiali nel sal 30 di fine settembre non si dovevano considerare francamente se diamo una lettura degli della definizione di stato avanzamento lavori così come la vedono anche nell'ambito degli appalti pubblici l'opera deve essere compiuta non cioè un pancale di mattoni preso buttato dentro il perimetro e cantiere siamo onesti siete sicuri che la possiamo considerare un avanzamento lavori l'opera non è avanzata diciamo appunto materiali ecco facciamo anche un ragionamento con onestante elettuale no siamo tecnici siamo ingegneri architetti geometri credo che dobbiamo vederla in questo modo ok ok non so non so se avete altri commenti altrimenti direi è quasi o circa un'ora che siamo in diretta io vorrei concludere qui perché queste sono le prime riflessioni a caldo magari proprio perché sono a caldo è possibile che è possibile che magari qualcuna l'abbia un po presa fuori strada spero di no spero di avervi dato contenuti utili vi raccomando tra l'altro nel video di ieri ho fatto un'analisi tra obbligo e necessità e facoltativa presentazione dell'agibilità al termine del superbonus perché ora soprattutto le unifamiliari entreranno in quella fase qualcuno c'è già riuscito o qualcuno si sta avvicinando da qui a 31 dicembre alla fine lavori e quindi devo non devo fare l'agibilità questo è importante soprattutto per tecnici perché si devono preparare i documenti e di nuovo se devo fare o non devo fare o la voglio fare l'agibilità cilas non c'è la sa manutenzione straordinaria tutto aspetto che abbiamo analizzato ieri francamente io mi porrei il problema della conformità dello stato legittimo dell'immobile perché allora sì che prima mi rientra dalla finestra ecco nei casi di cilas bene allora di nuovo ultimi secondi per un ultimo bellissimo like se me lo cliccate qua sotto mi fate un grandissimo piacere potete condividere questo video tra amici colleghi professionisti chi non ha detto a lavori spero di essere stato comprensibile anche da loro ci diamo appuntamento alle prossime dirette alle prossime live e un saluto a tutti allora vi rammento anche i miei riferimenti social eccoli qui canale telegram per ricevere prossimi preavvisi dei prossimi contenuti e il mio blog in cui potete trovare tantissimi contenuti e anche ripeto datemi qualche secondo dalla fine della diretta vi metto anche la bozza tutta scribacchiata i miei appunti sulla circolare 33 del 6 ottobre che potete comunque scaricare integralmente ok a blue e a e a a